Tragedia a Villa San Sebastiano, frazione di Tagliacozzo, in provincia dell'Aquila. Una giovane di 23 anni, di origini macedoni, Arbutina Hamza, è morta schiacciata sotto il peso di un cancello all'interno della cooperativa agricola La Villa. La vittima, infatti, era la giovane figlia del custode dell'azienda. L'incidente è avvenuto ieri sera, intorno alle 21. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la giovane stava chiudendo il grosso cancello in metallo, che, sganciandosi dallo scorrimento, le è caduto addosso, uccidendola. Sul posto sono intervenuti subito i sanitari del 118, allertati dai familiari della giovane vittima, che non hanno potuto far altro, però, che constatare il decesso della ragazza, che aveva riportato lesioni gravissime, che le sono state fatali. Le indagini, invece, sono coordinate dai carabinieri della compagnia di Tagliacozzo, sul posto per tutti i rilievi del caso. La dinamica dell'incidente è al vaglio degli inquirenti, per valutare se esistono delle responsabilità. Una morte che ha lasciato attoniti gli abitanti della piccola comunità di Villa San Sebastiano, dove la ragazza viveva con la famiglia all'interno della stessa azienda agricola. La famiglia in paese era conosciuta, la ragazza era arrivata in Italia da anni, aveva frequentato anche l'Istituto Tecnico per il Turismo di Tagliacozzo. Nei giorni scorsi nell'azienda agricola c'era stato anche un altro incidente. Era andata a fuoco un capannone con del bestiame all'interno, ma i vigi del fuoco erano riusciti a spegnerlo e le attività erano proseguite subito. In quel caso esclusa l'ipotesi del dolo. La magistratura vezzanese ora vuole vederci chiaro e avvalendosi dei rilievi dei carabinieri di Tagliacozzo cercherà di ricostruire al meglio tutta la dinamica dell'incidente per capire soprattutto come il grosso cancello possa aver ceduto in quel modo uccidendo una ragazza di soli 23 anni.